ciao a tutte ragazze e benvenute le nuove iscritte allora eccoci qui con la seconda estrazione per il giveaway perché la persona che è stata estratta la settimana scorsa non mi ha contattata e quindi nulla eccomi qui a ripetere l'estrazione e vi suggerisco di attivare la campanella che trovate appunto sotto i miei video così almeno non perderete nessun nuovo video in questo modo saprete quando io ho fatto diciamo un nuovo ho girato un nuovo video quindi procediamo subito con una nuova estrazione allora quindi non siete più 40 ma siete 39 allora la nuova vincitrice è la numero 13 che corrisponde a betta scrap ok quindi betta mi raccomando contattami entro una settimana da questo video e per ricevere il regalino io vi do un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao